Anche in Alto Adige chi soffre di celiachia beneficia di buoni spese erogati dall'ASL per l'acquisto di prodotti senza glutine. Buoni che non vengono però accettati al di fuori della provincia. In servizio di Stefania La Stella. Durante il periodo pandemico la popolazione celiaca che si trovava fuori provincia per lavoro, studio o altri motivi ha dovuto affrontare un problema speciale. La spendibilità dei propri buoni per l'acquisto di alimenti gluten free. Attraverso una delega si poteva dare il buono a una persona più stretta, a un parente più stretto, che poteva andare a spendere per noi il buono e spedire il pacco. Il presidente dell'associazione celiacei Alto Adige si è speso molto per cercare di sensibilizzare le istituzioni e trovare soluzioni al problema. Al termine del 2020 la provincia ha fatto un passo avanti digitalizzando tali buoni e accreditandoli direttamente sulla tessera sanitaria del paziente. Ma paradossalmente questo ha creato un nuovo problema. Questo ha fatto sì da una parte che si snellisse molto l'acquisto dei prodotti gluten free, ma per chi invece era fuori sede diventava un problema, perché la tessera sanitaria era tenuta direttamente dal paziente e quindi il buono non poteva essere più speso. A marzo 2021 l'associazione italiana celiacei Alto Adige ha ottenuto una vittoria. Trasferire il credito dalla tessera sanitaria del paziente a un familiare più stretto, che era residente in provincia di Bolzano, il quale poteva fare la spesa a nome del paziente attraverso una delega e spedire poi il pacco di alimenti.